Grande successo per Arcobaleno Napoletano, il premio ideato dall'attrice e cantante Anna Capasso e diretto artisticamente dal giornalista Diego Paura, andato in scena al Teatro San Nazaro. Una vetrina di musica, cultura, tradizione, sport, istituzioni e delle eccellenze dell'imprenditoria della Campania. La serata di gala, che gode del patrocinio morale del Comune di Napoli, è stata organizzata in collaborazione e a sostegno della Fondazione Melanoma, diretta dall'oncologo Paolo Ascerto dell'Istituto dei Tumori Pascale di Napoli. Conduttori di questa undicesima edizione, Patrizio Rispo, volto molto amato del piccolo schermo tra i protagonisti della SOPO Un posto al sole, e la stessa Anna Capasso. Ad aprire la serata il saluto del sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, poi le premiazioni intervallate da momenti musicali e di comicità. I premiati di questa edizione sono stati Gigi Ross, Teresa Saponangelo, Francesco Paolo Antoni, Marco Maddaloni, Lucia Fortini, Antonio Parlati, Alessandro Jovino, il Gran Caffè Gambrinus, Enzo Fiore, Antonio Orefice e Maurizio Palumbo. Non è mancata la tradizionale asta di beneficenza istantanea, con in palio una maglia ufficiale autografata della squadra del Napoli. I battitori sono stati gli applauditissimi Gigi Ross, con la collaborazione di Mario Pelliccia ed Enzo Calabrese, ad aggiudicarsi la maglia del Napoli il giornalista Alessandro Jovino per 500 euro, ovviamente destinati alla Fondazione Melanoma, rappresentata dal dottor Corrado Caracò. Importante donazione anche da parte di Amedeo Manzo, presidente della BCC di Napoli, che ha staccato un assegno da 1000 euro. Momenti di spettacolo con gli ospiti della serata, l'attrice Rossa Miranda, il cabaretista Vincenzo Comunale e il sassofonista Marco Zurzolo. Nel corso della serata sono state consegnate anche targhe speciali. Una è andata al professor Matteo Bassetti, direttore della Clinica di Malattie Infettive del Policlinico di Genova.